Come hai iniziato la tua attività teatrale? Parliamo di molti, molti anni fa perché io ho superato la soglia dei 70, per cui andiamo indietro fino agli anni 50, diciamo così. Le mie prime esperienze sono state frequentando la parrocchia, la parrocchia di Santa Maria in via, una parrocchia che era situata proprio nel cuore di Roma e in quella parrocchia c'erano molte attività artistiche, fu costruito un teatrino, un teatro, un bel teatro, un teatro dei servi si chiama, che prende il nome dai servi di Maria che sono i frati titolari del convento di Santa Maria in via e in questa parrocchia c'era l'uso di fare le sacre rappresentazioni, il Christus, fu fatta anche un'edizione del Quovades se mi ricordo io e c'era un frate, padre Giovanni Maria Catena che oltre che essere il maestro che curava i ragazzi cantori della Cappella Sistina, questi ragazzi poi venivano portati anche al Teatro dell'Opera quando li chiamavano per fare i cori per la Butterfly, quando c'era la Carmen perché gli servivano i cori dei bambini e lui era entusiasta perché poi andava in palcoscenico, padre Catena devo dire che era una persona che era sapiente in tutti i rami dello spettacolo, amava il cinema, ha fatto anche dei filmati lui stesso e allora che succedeva? Che in quegli anni cominciamo, io prendevo parte a quegli spettacolini che si facevano per le feste, feste del parroco, feste della mamma, si recitava, si scrivevano gli sketch, facevamo tutto fra noi ragazzi diciamo così. E poi ci fu una prima edizione del diario Anna Frank che però siccome il teatro dei serbi ancora non era finito, venne realizzata al Teatro Artistica Operaia che stava dietro alle spalle del Teatro Quirino proprio, era un bellissimo teatro dell'Ottocento e lì si riunivano, appunto si chiamava Teatro Artistica Operaia perché era dedicato alle compagnie amatoriali, le compagnie che in quell'epoca lì c'era molta gente che amava fare il teatro in maniera così filodrammatica, amanti del dramma eccetera e mi ricordo questa prima edizione del diario Anna Frank, io tiravo il sipario praticamente e mi rimase impressa questa cosa con l'entusiasmo del principiante, lo spettacolo era diviso in diversi quadri e allora io tiravo questo sipario come se fosse la tenda della finestra e mi chiamò in sala a un certo punto un signore che si chiamava Bucciarelli, Bucciarelli era un impresario, un impresario molto importante perché poi con gli anni venne avanti, ha realizzato parecchi spettacoli di valore e questo signore mi chiamò in sala e mi disse senti caro guarda che il sipario è un'arte e io rimasi così e mi disse come dovevo fare, con calma, con dolcezza partendo in maniera costante come se fosse una cosa automatica e questa cosa mi rimase impressa. Poi un altro aneddoto di questo diario Anna Frank era come protagonista Anna Frank la faceva Graziella Polesinanti, Graziella Polesinanti era una ragazza che ballava e recitava molto bene che poi credo che fosse un seguito, lei lavorò in Rai, credo che fosse sposata con il coreografo, adesso mi sfugge il nome, dopo te lo dirò, Gino Landi, si chiamava Gino Landi questo coreografo e allora che succedeva? Che lo spettacolo iniziava, che la famiglia di Anna Frank arrivava dopo che erano stati indotti dagli ebrei a scomparire, a rifugiarsi in questo appartamento sulla soffitta di questa casa dove si vedeva la Westertor e si sentivano i rumori di… e lei entrando, siccome tutti quanti si erano imbottiti di panni, si toglieva le mutandine in scena, aveva tre paia di mutandine, purtroppo un giorno nella foga della rappresentazione lei calò tutte e quattro le paia, fu un attimo, siccome era una ragazzina ci fu una risata in sala, poi si riprese così e questo è un aneddoto brillante che successe a quell'epoca lì, mi ricordo che la colonna sonora era stata fornita da… la colonna sonora ce l'aveva stata data a quella originale del diario Anna Frank che avevano fatto la compagnia dei giovani un anno prima o due prima, per cui era l'originale Pietro Pagnanelli che era già un qualificato tecnico teatrale, per cui lui grazie alla conoscenza che si aveva con Pietro Pagnanelli si ebbe la colonna originale dello spettacolo che avevano fatto la compagnia dei giovani o al Quirino Aleriseo, non ricordo bene. Lo spettacolo era molto divertente, questo poi di Anna Frank fu ripreso altre tre o quattro volte al Trattore Servi con altri interpreti, con altri collaboratori e io lì a volte ho fatto le luci, a volte ho fatto il suggeritore, a volte ho fatto il sinfonico, a secondo la necessità della situazione. Dopodiché tornando ai primordi, diciamo così, a me piaceva questo ambiente, questo mondo perché si imparavano tante cose. Io da padre Giovanni Catena ho imparato a fare le luci praticamente perché lui quando andava al teatro dell'opera, durante le prove assisteva a quello che facevano e poi dopo lì ci furono altri incontri, ci fu un incontro con il professor Venditelli che era un esimio scenografo che poi ha insegnato all'Accademia dell'Aquila, ha insegnato all'Accademia Venezia, ha insegnato all'Accademia qui a Roma al Ferro di Cavallo e lui mi chiamò a collaborare perché gli serviva una mano per fare la realizzazione delle scenografie e anche da lui ho imparato tantissime cose per quello che riguardava la scenotecnica, l'inquadratura, la preparazione e dare i fondi, dipingere e fare tutte queste cose qui. Fatto sta che io facevo un lavoro che era ripetitivo, facevo il commesso in un magazzino dove si vendevano filati di lana all'ingrosso, sì c'erano tanti colori però era una vita che non sentivo mia insomma e allora pur di rimanere nel teatro, la sera andavo a teatro, facevamo le prove, facevamo gli spettacoli, una volta si faceva il tecnico, una volta si faceva una piccola particina fino a che appunto negli spettacoli sagri abbiamo fatto diverse… io in uno spettacolo mi ricordo facevo il direttore di scena, recitavo e facevo anche le luci insomma, era un po' però era tutto fatto da tutte le persone che lo facevano per il piacere di fare il teatro chiaramente, poi dopo con gli anni questa cosa dovette diventare un mestiere, fui obbligato a fare una scelta perché non potevi andare al lavoro la mattina, poi la sera andare a fare il serare al teatro, a fare lo spettacolo al teatro senza diciamo così decidere… c'erano dei ritardi, c'erano dei ritardi per cui fui licenziato ma questo per me fu una bella cosa perché mi sentivo più sgravato e fu questo licenziamento da questo magazzino dove facevo il commesso, ho fatto prendere un altro indirizzo, ho avuto una scelta obbligata ma una scelta che io forse interiormente la desideravo anche, capito? Quindi facciamo uno stoppino. Quali sono state le prime esperienze da professionista nell'ambito teatrale? Le prime esperienze sono state diciamo divertenti perché erano varie, variegate e si succedevano sempre spettacoli nuovi, poi c'erano le compagnie di filodrammatiche che mettevano sui loro spettacoli, c'erano i saggi, c'erano le prove delle compagnie ufficiali perché in questo teatro De Servi c'era una grande attività in questo senso qui, poi c'erano i saggi delle scuole di Danza per cui era un continuo inventare e fare qualche cosa di nuovo, l'esperienza è maestra della vita per cui sul campo si impara molto meglio che in le azioni teoriche tenute magari da persone molto dotte ma che poi rimangono nell'aria così e allora cominciavamo, avevo un amico lì al teatro De Servi che era il custode che si chiamava Arnaldo Mancini e lui aveva una strana fisima perché ogni tanto capitava che quando c'erano queste manifestazioni del teatro per la parrocchia o per le famiglie o per il parro, aveva il terrore di usare il regolatore per le luci perché era elettromeccanico, c'erano delle resistenze del quale chi adoperava doveva stare lì quasi a contatto di questo marchigegno e lui aveva sentito dire che l'elettricità poteva influire sull'apparato genitale per cui si sentiva questa cosa, dice me le fai tu le luci? Va volentieri, tanto io lo faccio volentieri, addirittura io me lo abbracciavo il regolatore luci quando dovevo fare qualche spettacolo che era un po' impegnativo perché c'erano degli effetti in sequenza, non erano gli apparecchi elettronici computerizzati che ci sono adesso, tu dovevi fare tutto manualmente, alle volte intorno a un apparecchio con 12 circuiti ci dovevano stare due persone per fare degli effetti di striscio, di bui e poi riaccendere subito in un dettaglio, in un particolare, era una partecipazione, era piacevole fare lo spettacolo come tecnico delle luci insomma, ti sentivi collaboratore importante insomma e poi… Ma sui tuoi genitali poi c'è stato qualche problema abbracciando… Io spero di no, non credo perché ormai considerando l'età che ho, non credo di aver avuto disturbi in genere insomma… Nel 67 hai iniziato ufficialmente come professionista… perché mi sono iscritto all'album degli elettricisti come elettricista cinema, perché l'iscrizione come elettricista cinema era più veloce, anche perché il cinema alle volte scritturava persone in grande quantità e aveva bisogno di… perché avevamo fatto una specie di cooperativa lì al Teatro dei Servi e allora per prendere parte a questa cooperativa, che poi alla fine non c'è mai stato nessun guadagno, era soltanto… però io lavoravo anche per il teatro stesso, capito, la compagnia che gestiva la cooperativa, erano dei bellissimi spettacoli, erano spettacoli sempre… mettemmo su come cooperativa il processo a Gesù di Diego Fabri, di Anna Frank e diversi altri spettacoli nel tempo dei quali io finché sono stato lì, poi dopo ho preso il volo e sono andato in un altro teatro, sono passato dal Teatro delle Muse e da lì ho cominciato a conoscere… però tornando un passo indietro, come diceva un mio amico in uno spettacolo tanti anni fa, lì al Teatro dei Servi conobbi anche Leonardo Bragaglia, Leonardo Bragaglia era nipote di Anton Giulio Bragaglia, famoso regista che in teatro e nel cinema aveva fatto tutte le sperimentazioni, credo che fosse autore anche di Animali Pazzi, quel film con Totò che era un po' futurista come film e Bragaglia, a parte era una persona molto colta, aveva scritto dei testi su Scespir in Italia e su tutte le compagnie, le famiglie le famiglie di artisti italiani e lui aprì un teatro a Mentano, si chiamava Teatro del Conventino e mi ricordo che in questo teatro facemmo due o tre spettacoli in un paio di stagioni e fra i quali ci fu lo spettacolo inaugurale con Paola Borboni che era intitolato Dalla Terra alla Luna e Paola Borboni aveva tre monologhi da affrontare, prima di fare l'apertura, la prima dello spettacolo al Conventino di Mentana andammo ad inaugurare il teatro Randano di Cosenza che era un bellissimo teatro che stava alla fine di questa salita, c'era questa piazza e in fronte c'era questo teatro Randano che era molto bello, molto imponente visto sia da fuori che di dentro e mi ricordo che lei ebbe un successo strepitoso, la scena era stata fatta dalla cognata di Leonardo Bragaglia che era una scultrice molto importante, aveva fatto una sfera in polistirolo enorme che rappresentava la Luna e poi c'era una nuvola sempre in polistirolo su un panorama cielo molto bello per cui era suggestiva e la Borboni era vestita come una vestale romana, aveva un leggero cappuccio che le scendeva giù e devo dire che lei in questa situazione fu bravissima, fu veramente eccezionale, poi mi ricordo anche alla fine tutti che la seguivano, lei scendeva le scale giù tutto il personale del teatro che la complimentava e qualcuno rimediava anche qualche mancetta diciamo così insomma, ma lei era veramente una donna in gamba, spirituosa eccetera eccetera poi quando tornammo a reinaugurare la stagione al conventino di Mentana erano sempre gli stessi tre atti unici e monologhi, soltanto che quella sera, quella maledetta sera che poi anche si sa poi le cose cambiano nella vita e danno un altro indirizzo, c'era il vento e c'era il suggeritore Lelio, un signore che apparteneva a una famiglia di artisti e suggeritori e tecnici, una famiglia del teatro diciamo così, Anna Lelio pure era la sorella credo o parente comunque, che poi fece anche lei uno spettacolo in questo conventino, c'era il vento e in quinta a destra e in quinta a sinistra c'erano due enormi vasi con delle piante di bosso e il vento faceva stormire queste fronde e il suggeritore non arrivava alla Borboni e la Borboni a un certo punto si bloccò, fece una pausa di 10-15 secondi e disse, ancora me lo ricordo, state assistendo alla tragedia della mia vita, da questo momento io non reciterò più. Mi ricordo che c'era Isabella del Bianco e anche altri attori, attrici di tutto il teatro italiano perché era una inaugurazione importante, Isabella del Bianco si gettò con le ginocchia a terra, no donna Paola no, non deve fare questo perché vuole abbandonare il teatro, insomma fu una cosa, dopodiché finito questo chiuso diciamo il simbario che non c'era, chiuse le luci tutti sparirono dalla circolazione e donna Paola rimase sola, che io fui l'unico ma neanche Leonardo perché forse è rimasto scioccato pure lui, dobbiamo fare tutte queste rappresentazioni e tu mi abbandoni così e andai io in camerino da lei ad aiutarla a fare bagagli in un certo senso, era un po' mesta però una grande artista, era intelligente come donna per cui dopo 30 giorni aveva firmato con Ruschel per i 30 azzecchini d'oro e fu uno, quindi la rinuncia era stata breve, insomma il tempo di una folata di vento appunto e ti posso raccontare che ci fu uno degli aneddoti in quello spettacolo di 30 azzecchini d'oro su la Paola Borboni e Renato Rascia perché Renato Rascia non era tenero come personaggio e allora un giorno raccontarono, poi lo raccontarono anche lì al Maurizio Costanzo Show ma forse tu eri giovane per il Maurizio Costanzo Show per cui ancora qualche vecchia registrazione intanto la fanno vedere e raccontò proprio Paola Borboni credo che Rascia un giorno si rivolse a lei dicendo stai zitta brutta vecchia e lei si girò con solennità e le disse io sono stata giovane e bella ma tu alto mai e prese si girò su se stessa e uscì in quinta per queste canizze che c'erano fra attori se ne potrebbero dire tantissimi insomma di aneddoti e invece Luciano Salce è stato anche un altro episodio piacevole perché lui aveva già fatto degli spettacoli lì al teatro delle muse con Adriana Asti e sempre sempre testi di Natalia Ginzburg e Natalia Ginzburg era era una donna che a quell'epoca lì era una delle autrici più importanti in quel momento aveva scritto l'isola di Ratturo lessico familiare e diversi altri testi e aveva scritto molto anche per il teatro per cui c'era l'inserzione che l'inserzione aveva fatto la regia mi pare Visconti dell'inserzione poi invece ti ho sposato per l'allegria e l'aveva messo su con Adriana Asti e Renzo Montagnani e vennero lì poi dopo il gestore del teatro chiese visto il successo di questi spettacoli chiese a Salce se voleva mettere su un altro lavoro della Gisburg e allora venne fuori la segretaria e questo spettacolo fu allestito e montato tutto lì al teatro delle muse infatti la scena era un po' piccolina la scena era di Luca Sabatelli che era un famoso diventò poi un famoso costumista più che scenografo perché Luca Sabatelli fu quello che fece i costumi per la Carrà di quasi tutte le ultime sue trasmissioni diciamo così e Salce devo dire che era una persona molto molto piacevole mi ricordo che una sera che successe che faceva un freddo quell'anno mentre facevamo questo e uscivamo da teatro verso le due di notte io avevo una 500 che come sentiva due brividi di freddo a batteria andava a terra e lui molto simpaticamente mi spinse quello che aveva una mini minor e mi spinse per darmi l'avviamento diciamo così e insomma questa cosa mi rimase mi ha fatto un grosso favore se no rimanevo lì alla ghiaccia insomma e dopodiché poi da lui ebbe anche un complimento perché nello spettacolo c'era un solo effetto io mi ero messo in sala a guardare le prove insieme a lui mentre c'era questa scena in cui la Giannotti cominciava a parlare al telefono era una scena un po' un po' drammatica perché c'era un distacco da un amore eccetera eccetera Claudia Giannotti e allora io suggeri io da questo punto qui comincerei a calare perché se no c'era sempre un piazzato fisso capito comincerei a calare fino a portare al rosso del tramonto all'arancio del tramonto fino alla chiusura del sipario diciamo così e a lui l'idea piacque e così facemmo poi seppi dopo da un altro attore della compagnia che Salcia aveva detto in questa compagnia l'unico professionista tecnico è Sandrino insomma mi chiamarono Sandrino anche loro insomma ecco dopodiché la compagnia partì andò in tournée questo spettacolo è stato portato in tournée per tantissimi tantissimi debutti abbiamo fatto 80-90 debutti quell'anno mi pare erano le città più piccole e le città più grandi praticamente quando mi svegliavo la notte non sapevo più da che parte stava la luce in quale città mi trovavo eccetera eccetera e ci fu Gatti l'amministratore che mi ricordo non so se eravamo a Volterra a Volterra ci fu un episodio molto particolare che siccome nel testo c'era una visita medica e Claudia Giannotti era di spalle così al pubblico però si toglieva la camicetta e diciamo così di sguincio di lato si vedeva il seno ma era il seno di una persona che stava facendo una visita medica c'era il dottore che faceva questa visita medica tant'è che poi si era sparsa la voce e allora i pompieri tecnici volevano e dicevo guardate mettetevi lassù mettetevi lassù così lei non vivete e voi vedete insomma sai a quell'epoca lì un seno faceva piacere insomma poi devo dire che la Giannotti aveva e una di quelle serate in questo teatro a un certo punto ci fu qualcuno dalla sala che non aveva gradito questa scena e gridò mi pare puttana una cosa di questo genere qui e Claudia Giannotti si rivoltò verso il pubblico e fece così proprio ma ancora mi ricordo adesso questa cosa mi è rimasta un po' impressa perché insomma e dopo di che lo spettacolo continuò insomma e poi un'altra volta sempre con lo stesso spettacolo mi ricordo perché non tutte le piazze davano una quantità di pubblico sufficiente a vivere per quello che erano tutte le spese generali dello spettacolo della compagnia e mi ricordo in un'altra piazza in Alt'Italia e venne Gatti in palcoscenico e disse Gatti era l'amministratore della compagnia dice ragazzi abbiamo incassato quanto le sorelle grammatica nel 32 25 mila lire e che ci fu una risata generale e anche un po' di sgomento per dire siamo andati un po' malino insomma ecco e io qui farei un altro tagliettino e siamo sempre intorno a quegli anni lì nel 67 68 69 70 eccetera perché nell'arco di tre stagioni Paolo Poli cominciò diciamo così ci fu uno spettacolo che fece molto scalpore in quell'epoca lì che era Rita da Cascia allora cosa successe che questo spettacolo fu bloccato fu bloccato non ricordo se dal presidente Scalfaro ci fu una richiesta proprio alla camera di sospendere il teatro e lo spettacolo insomma misero in mezzo alla strada una compagnia di 10-12 persone quant'erano allora Paolo Poli finito queste polemiche e così mise su la nemica la nemica di Dario Nicodemi uno spettacolo che era un capolavoro degli anni 30 anni prima avevano fatto i film anche De Sica anche la moglie di De Sica aveva fatto una nemica molto bella mi ricordo di averlo visto quel film lì io e questa nemica in chiave lui era la nemica praticamente era fatta in chiave buffa e fu un grandissimo successo l'ha portato in giro per tantissimi anni insomma ogni tanto si faceva una ripresa di questo spettacolo qui dopodiché mi ricordo un anno che noi eravamo andati a vedere a Spoleto a Spoleto sì il festival per il festival di Spoleto lui aveva messo su un spettacolo futurista per conto del Teatro Stabile di Torino che si chiamava Il Suggeritore Nudo dove Paolo era tutto rasato a zero mi ricordo era molto buffo e questo spettacolo io lo vidi al Teatro di Spoleto Caio Melisso mi pare che si chiamasse il Teatro Caio Melisso di Spoleto per me fu una fortuna perché poi lui finita la manifestazione del festival venne a Roma e prese in prestito le scene dell'allestimento che il Teatro Stabile gli concesse e mandò avanti in forma un pochino più ridotta c'erano meno persone perché sai a parte il palcoscenico delle muse non era enorme però tutti gli effetti che diciamo così avevamo visto al Caio Melisso siamo riusciti a riprodurli in questo teatrino c'erano le due colonne, i due tralicci che parlavano fra di loro c'era la luna Uccidiamo il chiaro di luna e questa luna che scendeva giù che io l'avevo fatto con una piletta siccome c'era così tanto dal muro e dal panorama con due cordine tiravamo su questa piletta che batteva questo cerchio luminoso e poi andava su proprio tic e tac e tic e tac e tic e tac e quando arrivava in cima scendeva giù e faceva questo effetto e poi c'era un altro aggeggio che era stato sospeso sopra una specie di palombaro che poi scendeva insomma lo spettacolo fu un discreto successo anche se era abbastanza ma Paolo Poli aveva diciamo così un coraggio a fare queste cose qui forse era l'unico che poteva fare questo tipo di spettacoli come quando mise su esercizi di stile di Cunò per conto del teatro stabile di Bologna mi pare sì e anche quello fu uno spettacolo il testo era tradotto da Umberto Eco era molto divertente perché era una piccola storiellina che si svolgeva su un tram su un filobus e questa cosa era fatta in francese e latino in altri dialetti insomma era molto divertente lì c'era anche Isabella del Bianco c'era Rodolfo Baldini che era uno o due dei fratelli Baldini che loro anche lavoravano molto nel doppiaggio queste cose qui insomma e anche con Isabella del Bianco io ho lavorato spesso al teatro di Muse sempre mi ricordo di aver fatto due spettacoli con loro Amedeo di Ionesco e un altro spettacolo si chiamava era proprio autobiografico si chiamava sono bella e ho un gran naso infatti Isabella aveva un gran naso però era una faccia importante e io quando l'ho rivista dopo l'interventino aveva cambiato la luce degli occhi questa è una cosa che vabbè però insomma ognuno fa del suo corpo fa quello che vuole lei piaceva proprio per questo perché aveva una sua simpatia poi era una donna intelligente l'unica curiosità è che i loro testi i loro gobioni io non ho avuto l'opportunità non c'era punteggiatura quindi anche a seguirli da dietro era una cosa strana forse probabilmente era un sistema per memorizzare meglio le intonazioni non lo so erano scritti senza punteggiatura una tecnica particolare neanche io infatti ero rimasto un po' posso invece mi... quando hai incontrato tu Emanuele Luzzati? beh Emanuele Luzzati ha lavorato da sempre quasi per Paolo Poli faceva le scene faceva anche dei pupazzetti e io l'ho incontrato quando a Prado venne a fare dei ritocchi sulle scene che poi gli feci io mentre lui assisteva e devo dire una persona deliziosa veramente un grande artista gli feci anche una fotografia in quell'occasione lì che gliela mandai e lui mi rimandò un bigliettino con un pinocchio molto bellino dove mi ringraziava per le foto che chi le aveva fatto e poi altre volte insomma poi è capitato siccome le scene le faceva sempre lui e magari Paolo diceva vedi lo scenografo mi ha messo anche i tagli della carta che lui ha stracciato per fare il collage e allora io riuscivo a riprendere i colori a far scomparire questi difetti che poi Paolo Poli trovava sempre qualche cosa da rifare sulle scene c'era sempre qualche cosa da ritoccare e una volta erano state fatte troppo in su e quindi sotto si vedeva lo zoccolo allora dovevamo tagliare la parte bassa incollarla dalla parte di sopra e riportarla a giusta dimensione per quello che era siccome questo teatrino aveva tre teatrini uno centrale e due laterali e ogni teatrino è ancora la scena che lui porta in giro questa qui perché è un sistema di lettura per cui va benissimo la gente dice ma è sempre la stessa scena no non è sempre la stessa scena è un sistema di lettura adesso questo che noi facciamo con i tre teatrini lo fanno da fazio con questi grandi monitor con questi grandi proiezioni che fanno loro cambiano scena con un sistema elettronico e noi invece lo facevamo e lo fa ancora su scene dipinte adesso in quest'ultimo spettacolo c'erano i dipinti dei macchiaioli c'erano scenografie quasi tutti i lavori pittorici e questo era bello anche perché almeno la gente si incuriosisce anche su quello che va a vedere durante lo spettacolo dice ma guarda quel quadro lì mi pare di averlo visto oppure su qualche rivista o qualche cosa insomma e insomma è sempre è sempre questa Luzzati aveva fatto tantissimi bozzetti poi ci sono i manifesti anche mi ricordo una volta siccome c'era l'abitudine di farsi firmare i manifesti di tutti i componenti della compagnia e quel giorno c'era Luzzati in teatro allora gli dissi maestro mi firma questa locandina e gli altri volevo mettere tutti la firma che no 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 questa serve a me perché poi diventa un'opera unica è firmata dal maestro e quindi anche Luzzati fece un po' così come dice mi hai defraudato di un piccolo valore aggiunto insomma ecco e invece ma come era la gerarchia nel teatro quando lavoravi tu i rapporti tra Capo Comico e tutti gli altri c'era ma con Paolo c'era tantissima affabilità c'era anche poi qualcuno che se ne approfittava anche insomma e purtroppo sai c'è il direttore di scena c'era ma agli inizi quella di Paolo era una compagnia artigianale lui si è sempre considerato un artigiano del teatro ed è vero tu pensa che noi andammo a Venezia alla Biennale avevamo 17 valigie 18 valigie 14 valigie dentro c'erano costumi scene e attrezzeria e facevamo uno spettacolo su Eric Satie e c'era e mi ricordo nel cast c'era Milena Vucodic c'era Iole Silvani c'era Pierino Dotti e c'era anche adesso mi sembra mi scappa il nome vabbè te lo dico dopo che poverino è morto anche quest'altro attore qui quindi anche se non te lo dico è lo stesso e fu un bel successo perché anche lì avevamo pochissimi elementi e in questo teatro che si chiamava Teatro del Ridotto io andai a chiedere alcuni proiettori al Teatro della Fenice e i tecnici del Teatro della Fenice dovevano collaborare con noi in un certo senso e qui avevamo pochissima roba in scena però loro quando videro lo spettacolo gli dissero però c'è belle luci considerando con tutti i pochi in mezzo perché molta gente pensa che gli spettacoli vadano fatti con le grandi quantità di materiale capisci che poi alla fine non puoi riempire un buchetto qua un buchetto là metti un proiettore lì perché c'è un buco metti un proiettore lì perché c'è un altro buco eccetera eccetera tutte queste cose qui si usava io usavo un sistema così guardavo le prove e poi d'accordo con Paolo ma se lui non diceva niente gli andava tutto bene se qualcosa non gli andava gli diceva no no questo non mi piace e poi voleva sempre il rosso mi piaceva sempre e ce l'ho qui mi metti il rosso va bene se vuole il rosso io te lo metto non c'è problema insomma comunque i due spettacoli più belli per me dal punto di vista di Luci sia per Paolo che per un altro attore molto in gamba anche lui fu Mezzagoda Mezzagoda fu uno spettacolo in cui c'era soltanto Paolo Poli un pianoforte e Jacques Lempereau che era una bravissima pianista e anche musicista insomma era uno spettacolo di due ore dove lui cantava e su questo cantava e poi recitava le sintesi di un paio di romanzi quelli che erano stati diciamo i romanzi un po' più scandalosi nel primo del Novecento mi ricordo mi pare che ci fosse una si chiamava Naya ma insomma adesso molte cose mi sfuggono perché sono successe quasi 40 anni fa per cui insomma sono tanti gli aneddoti che vorrei raccontare e poi ci fu invece un altro spettacolo che questo nacque sempre lì al Teatro delle Muse è un spettacolo Marina Pagano Antonio Casagrande e c'è sempre qualcuno che mi scappa va bene comunque e questo spettacolo era intitolato Io Raffaele Viviani un collage di poesie e testi di Raffaele Viviani messi insieme da da Achille Millo e Antonio Chirelli Antonio Chirelli era il segretario l'addetto stampa del Presidente Pertini quando andò alla partita che vince l'Italia a Madrid mi ricordo insomma in quell'epoca era l'addetto stampa del Presidente Pertini e anche lui quando venne a teatro a vedere lo spettacolo mi fece i complimenti anche Achille Millo mi fece i complimenti mi hanno scritto delle cose bellissime su tutti i reperti che io ho conservato i copioni i locandini i piccoli aggeggini insomma vari le mie piccole soddisfazioni ce le ho avute insomma ecco così per cui è stato meglio che ti hanno licenziato sì credo proprio di sì perché se no stavo ancora lì a vendere signora vede questa matassina non è uguale perché lei ha toccato troppo col dito e ha cambiato colore al colore se capisci capitava anche di questo qui ma poi non era nelle mie corde però quando uno deve lavorare si arrangia a fare tutto perché sai io mi ricordo che da ragazzino per andare al cinema io prendevo la scopa e andavo sotto l'edicole del quartiere perché un giorno avevo visto a un signore gli cadevano 10 lire di quelle d'alluminio e andava a finire sotto l'edicola per cui erano irrecuperabili la domenica facevo questo giro con la scopa poi la spazzatura la ributtavo sotto però rimediavo 30 lire di qua 25 di là e alla fine i soldini per il cinema insomma venivano fuori pensa che io ho visto girare ho avuto la fortuna di vedere girare La Dolce Vita Vacanze Romane poi anche un film con la Valeria Moriconi nella piazzetta vicino dove io abitavo che era c'erano tutti gli attori comici italiani da Peppino De Filippo Alberto Sordini Nino Manfredi i vigili mi pare che si chiamasse Fabrizi che doveva fare abito alla sposa per la figlia c'era Tiberio Mitri che lui era un pugile che ormai si era messo a fare il cinema poi non ha avuto grande fortuna come attore era un po' ma invece cosa pensi del teatro di oggi come lo affrontano i giovani che iniziano la professione del teatro ma è dura perché c'è tanta concorrenza ci sono tanti spettacoli e sai poi ci sono queste cose che fanno vedere in televisione molti pensano che sia tutto un piacevole rincorrere il successo un conto se vuoi fare il cantante un conto se vuoi fare l'attore io conosco un ragazzo molto bravo però ho visto che si dà da fare cioè lui si muove non stanno fermi lì a aspettare che lo chiamano le grandi case di produzione oppure i produttori si danno da fare e qualcosa fanno insomma però mi ricordo anche a quell'epoca lì c'era grande fermento negli anni 60 le cantine Carmelo Bene c'erano molti teatri spettacoli di rottura che facevano alcuni erano proprio di rottura nel senso rottura dei scatole perché sai molti si mettevano alla prova e i forni che si facevano a quell'epoca lì i forni nel senso i teatri vuoti allora le compagnie bisogna staccare qualche biglietto se non si fa borderone anche stasera capisci perché fatto un certo numero di borderone c'erano dei premi che dava il ministero dello spettacolo e allora tante compagnie erano un po' taroccate che vivevano su questo su questi premi premi finali insomma alle volte poi quando c'era non c'era nessuno ma oggi c'è la partita oggi c'è c'è cattivo tempo domani piove insomma ognuno giustificava le sue però gli attori quelli quelli veri quelli che amavano fare il teatro anche anche molti doppiatori e anche molti della televisione alla fine volevano fare il teatro io mi ricordo quando su al conventino mettemmo su Cavalleria Rusticana e Rosario di Verga c'era un cast stellare per quell'epoca lì perché c'era Bianca Doccafondi Vanda Capodaglio Anna Lelio e tutte queste persone qui che a quell'epoca erano nomi importantissimi per la televisione italiana per cui Carmelo Bene che rapporti hai avuto? No Carmelo Bene io lavoravo lì al teatro però avevo conosciuto il professor Benditelli che aveva fatto quasi tutte le scenografie sia per i film di Carmelo Bene Nostra Signora dei Turchi e sia per gli spettacoli questa è la gondola azzurra questa è una foto di scena e qui fu divertente perché questo effetto di mare e la luna sul fondo qui la luna sul fondo era un disco di cartone che dove si poggiavano le torte e quello che tu vedi come riflessi del mare era del filo argentato per fare i pacchi dei regali che io misi con gli spilli su un fondale nero e quindi dava questo effetto proprio dei riflessi dell'acqua durante lo spettacolo siccome si muoveva leggermente il fondale nero chi stava in sala vedeva questo sbrillucci che io la scena del diario di Anna Frank eccola qui qui abbiamo Carmelo Bene accanto Anna Frank e poi ci sono tantissimi altri spettacoli mi ricordo che lavorammo anche che per un liolà con Modugno lui faceva la realizzazione anche era uno che non stava mai fermo queste sono tutte cose organizzate da lui a Venezia perché a quell'epoca c'era la moda diciamo così di protestare dal punto di vista ecologico su quello che succedeva è una persona che a me ha insegnato moltissime cose tecnicamente anche per quello che riguarda un po' la pittura a fare i colori a ricercare i colori e la cosa bella è che non ti faceva ti faceva capire le cose facendole diciamo così ecco e mi ricordo che venne venne lì al teatro delle muse con uno spettacolo che era intitolato il monaco preso da un racconto di Lewis era un frate un po' trombino insomma che di notte si aggirava ma lo spettacolo era così se che abbiamo un tubo diciamo la verità e c'era anche lì c'era un cast molto bello perché c'era la compagna di Carmelo Bene di quell'epoca lì Lidia Mancinelli che c'era un viso bellissimo mi ricordo e poi c'era Desilumini che era un'altra bravissima che lei era più cantante e poi riusciva a modulare il fischio anche per la musica classica era una che ha avuto poi notorietà con degli spettacoli che faceva Leone Mancini in 100 minuti erano spettacoli diciamo così tre canzoni e cose varie che duravano 100 minuti la gente ci andava felice perché usciva divertita e poi mi ricordo che la Desilumini portava il vino delle sue campagne perché era una che stava bene e all'intervallo offrivano un bicchiere di vino a tutto il pubblico insomma chi voleva andava a scolarsi sto coccettino di vino era una cosa simpatica per invogliare insomma le persone ad andare a teatro ma quelli sono stati anni in cui c'era il fatto che la televisione la gente non usciva più tanto poi dopo quando ho cominciato a rompere la televisione mi ricordo i film il cinema con l'asce la doppia che è il giovedì erano pieni così anche se il film era una trambata una bufala però si riempivano le sale grazie a Mike buongiorno allora uscivano con questo trabattello che mettevano davanti allo schermo e lì c'era un marchigegno che proiettava le immagini del televisore sullo schermo a una grandezza molto ridotta però era piacevole insomma si stava il cinema in quelle occasioni ma io quello che ricordo con più piacere era il spettacolo il varietà il cinema di varietà e molte cose io le ho acquisite lì mi ricordo quando si accendeva questa ribalta con l'orchestrina di 5 o 6 elementi la tromba la batteria cose il pianoforte e facevano tutto lo spettacolo poi uscivano si apriva usciano 4 ballerine smandrappate ma la gente si divertiva alle volte capitava qualche bravo cantante mi ricordo Giorgio O'Brien Giorgio O'Brien che faceva a quell'epoca che poi si chiamava Giorgio O'Brien poi lei fece dei cambiamenti credo che fosse uno dei primi operati della storia dei trans insomma e lei faceva uno spogliarello in silhouette attraverso uno schermo di carta bianca e faceva l'imitazione di Marilyn Monroe anche e aveva una voce io dico lei perché quando l'ho conosciuta io era stata operata per cui aveva avuto dei problemi quando andarono in America perché Lucia Poli fece uno spettacolo in cui c'era anche nel cast Giorgio O'Brien quando arrivarono in America con questi documenti c'era qualcosa che non collimava quindi succedevano dei casini per cui le persone insomma poi dopo sono riuscite anche a ritornare questa qui è una delle locandine del Trato dei Servi e qui siamo nel Cristo su guarda quante persone c'erano in questi cast poi scritto in latino vedi dramatis persone regia di Vittorio Dancona che sarebbe padre Giovanni Maria Catena che ho detto eccolo qui poi invece scenografia Genesio Sistina che è sempre lui praticamente qui c'era il tecnico dei Luci c'era Domenico Paciucci e qui come tecnico dei suoni c'era Pietro Pagani che sarebbe Pietro Pagnanelli che era questa persona che era poi anche lui prese proprio l'indirizzo di fare il direttore tecnico nelle compagnie andava in giro insomma ormai non so quanti anni potrebbe avere ma penso senz'altro un 10-15 più di me ecco vedi qui Via del Mortaro Largo Chigi eccetera eccetera vedi i telefoni c'avevano sei cifre ma la pena e la curiosità sono i prezzi dei biglietti allora guarda poltrona di platea lire 700 galleria lire 500 era un teatro di 300 posti scarsi per cui tu puoi ti puoi rendere conto di quanto 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 siano aumentati il prezzo dei biglietti del teatro e del cinema in generale poi qui abbiamo una locandina di dello spettacolo di Raffaele Viviani questo è un bustino in bronzo riprodotto dietro di Raffaele Viviani vedi qui ecco Achille Mil Antonio Casagrande Marina Pagano e Franco Acampora spettacolo in versi prosa e musica di Raffaele Viviani al pianoforte Aldo Pizzolo alla chitarra Claudio Capoglieci e qui c'è tutto qui ci sono il mio come luci e tutto il resto amministrazione costumi eccetera anche qui i prezzi vedi poltronissime 3000 lire poltrona 2005 galleria 1800 siamo a a dieci anni di distanza da qui e qui praticamente come e ancora 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 erano questa invece è una locandina molto divertente perché questa versione che tu vedi qui praticamente è stata censurata perché la locandina principale originale io adesso te la mostro se tu vuoi se vuoi staccare un attimo ecco qui come vedi questa qui è la locandina originale ma siccome in questi teatri non era molto diciamo così accettata anche perché nelle intenzioni di Paolo questa era la Madonna che schiacciava il diavolo praticamente come più le intenzioni di Paolo le intenzioni del fotografo ecco questa era e non credo che è stata molto molto insomma praticamente quando andavamo quando andavamo in giro nei teatri questa locandina non la trovavamo mai trovavamo sempre una versione magnifica una versione rifatta come quella che ti ho fatto vedere in quell'altra situazione questa invece è una locandina sempre con Paolo e con la sorella e c'è anche Andrea adesso un ragazzone gigantesco che è diventato un bravo musicista e e lavora anche abbastanza come come musicista insomma questo spettacolo qui lo facciamo al Teatro Flaiano nel 1985 questa è anche una foto che gli fece Niccoli un altro fotografo di scena che è diciamo così il fotografo di fiducia di Paolo